Noi ci fermiamo, 270 secondi, come ci fermiamo? In una maniera particolare, come al solito ce lo dice Claudio Missaglia in Filippino. Allora, prenditi la telecamera, aspetta un attimo, sei pronto? Quando sei pronto, vediamo il primo piano con la telecamera, non te lo mettere davanti, tenetelo basso, ok? Guarda la camera di Moreno Nellini, perfetto, non cambiate canale, restate a Caffè Sport, ce lo dice Claudio Missaglia in Filippino, vai! Siamo arrivati in Filippino, come la telecamera, come la telecamera, come la telecamera, come la telecamera, a Caffè Sport.